Ma voi, ve li ricordate i cartoni della Kindere Ferrero? Si tratta di una serie di cartoni usciti all'incirca dal 2001 al 2008 per la Kindere Ferrero. Le videocassette e più avanti i DVD erano disponibili all'interno di pacchi di merendine. Si trattava di una serie di cartoni animati che erano fatti appositamente per vendere le merendine e i giocattoli che si trovavano all'interno delle merendine. Quindi non aspettatevi chissà quale grande qualità. Ma sappiate che molta gente ci si è affezionata. E stranamente hanno funzionato. Inizio risolvendo alcuni piccoli dubbi che molti hanno riguardo a questa serie. I film che duravano un'ora e mezza, per esempio Aida degli alberi, non fanno parte di questa serie. Sono una cosa completamente a parte di cui parlerò forse un'altra volta e che non erano del tutto legati alle merendine. Per risolvere alcuni dubbi, Monster Allergy e Mostri Pirati, due cartoni animati che hanno effettivamente avuto delle sorprese all'interno delle merendine in realtà non c'entrano assolutamente nulla con tutto questo, ok? Si tratta di serie fatte dalla Rainbow o dalla The Animation Band ma che, sebbene abbiano molto in comune con questi piccoli film, no, 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 non c'entrano nulla. I Magotti Anno 2001 I Magotti fu il primissimo film di questa serie uscì nel 2001 fatto dalla Animation Band si trattava di una casa di produzione tutta italiana che non è che avesse fatto chissà quante serie prima divenne famosa dal 97 in poi solamente per aver fatto Lupo Alberto serie che ormai conoscono praticamente tutti. La Kindere Ferrero ebbe la geniale idea di provare a convincere i bambini a comprare merendine tramite questo piccolo escamotage creare dei film a cui i bambini si affezionassero e che ovviamente erano da comprare con le merendine per poi costringere i bambini esaltati come dei pazzi a comprare le sorprese di queste merendine. Non solo funzionava ma ne ho anche un ottimo ricordo. È bellissimo! Ci troviamo in un'epoca abbastanza favolistica medievale questo mago decide di creare degli assistenti o meglio, inizialmente decide di creare un solo assistente ma le cose finiscono male e la pozione che serve a creare un assistente finisce per andare versata e perduta. Il punto è che le parti di questa pozione che entrano a contatto con dei colori finiscono per trasformarsi nei magotti delle creature con dei poteri magici che si scoprono nel corso del film. Dall'altro lato però abbiamo una piccola parte della pozione che finisce per addentrarsi nell'oscurità e non vedere mai la luce nei colori. Questa parte finisce per non ottenere nessun potere magico e per diventare particolarmente invidiosa di coloro che possono vivere al sole senza doversi nascondere nell'ombra. Generalmente i cattivi di queste storie sono sempre così. La storia parlerà dunque di questo gruppo di magotti buoni che lentamente creano una sorta di mini civiltà estremamente semplificata e che superano vari problemi che si presentano a loro fino al momento in cui scopriranno dell'esistenza di questo fratello perduto che non solo tiene prigioniero il mago pretendendo di ottenere anche lui un potere ma che progetta la distruzione di tutti gli altri. Il suo piano consiste nel impedire a chiunque di stare alla luce del sole visto che lui non lo può fare e quindi rendere tutti quanti uguali ed eliminare la sua disabilità. È così che nelle merendine si trovavano i protagonisti della serie. Una particolarità che era molto apprezzata di questi personaggi era il fatto che tutte le volte avessero un qualcosa di chiamiamolo magico. La cosa magica dei magotti era il fatto che nel cartone quando attivano i loro poteri cambiano colore. Questi, i pepottini che si trovavano all'interno delle merendine cambiano effettivamente colore. Basta tenerli in una mano e scaldarli. E beh, sì, cambiavano colore semplicemente con il calore della pelle e l'unico difetto è che effettivamente non tutti i colori corrispondevano. Qualcuno che doveva diventare verde diventava bianco, rosa o altro del genere. Stai facendo rumore di fondo. Lo so. Ah, altra cosa che faceva incazzare molta gente il cattivo alla fine del film cambia finalmente colore e diventa bianco da nero diventa bianco ma non il personaggio. L'anno successivo, 2002 esce Il Lunes e la Sfera di Lasca. C'è una differenza di qualità enorme. Non so se sia perché hanno guadagnato abbastanza grazie a Magotti ma davvero l'animazione è estremamente più fluida e più animata. Per la primissima volta le canzoni sono seriamente belle e l'ambientazione è studiata i personaggi no. I personaggi mantengono il loro essere fatti male. Era bellissimo Il Lunes. Stavolta parliamo di due chiamiamoli beduini che si perdono nel deserto e finiscono per trovare questa antica piramide in cui si nascondono Il Lunes un'antica popolazione che vive nelle piramidi nelle tombe dei loro faraoni. Davvero? non si sa quali sia la logica tipo il fatto che ci siano delle api nel deserto delle api delle api delle api e non siamo dove effettivamente sono le piramidi cioè vicino al Nilo siamo davvero in mezzo al deserto e l'unica osi che c'è vicina è stata distrutta dai cattivi quindi effettivamente le api non dovrebbero esserci e queste api vivono da migliaia di anni rinchiuse in questo sarcofago col miele che può sembrare una giustificazione per spiegare quello che ho detto prima ma in realtà se scoprite che cosa facevano col miele e quale tortura terribile facessero con il miele gli egizi iniziate a divertirvi parecchio. Ma io ho capito perché mi piaceva perché non ha senso che ti ho rovinato il cartone mi sa che me le rovinerai tutti il potere magico di questi o almeno dei buoni non si vede e che sai si illuminavano al buio perché erano fluorescenti non è quello il problema il problema è che io sono davanti a un telefono che fa luce e se spengo il telefono non fa luce certo che fa luce come fa a fare luce e a voi non mi serve loro praticamente mangiando questo nettare magico finivano per illuminarsi e avere questo potere che in realtà non esisteva ma semplicemente si illuminavano e facevano paura. Ma per forza c'è la finestra ma non è la finestra il problema fa niente fa niente. Questa sfera di Lasifer di cui parla il titolo sarebbe questa sfera sospesa su una conca che mantiene in equilibrio il mondo impedendo di nuovo al mondo di finire con il fare catastrofi naturale. Ma la accendi sta luce! Ma dà più effetto senza che ti si veda. Più effetto poco effetto più effetto va bene poco effetto. La trama di Lunas parlava appunto di questi due beduini che decidono di aiutare questa popolazione che hanno trovato nella piramide sconf... giusto bravo sconfiggendo questo cattivo che ha come scopo la distruzione del pianeta non ho ancora capito perché ottenendo il potere della sfera di Lasifer ma distruggendo appunto il pianeta. Non ha senso! Ecco perché non mi piaceva. Ma a me cosa piaceva? Ma questo? Sì. Cosa faceva lui? Voleva distruggere il mondo per dominarlo. Lui, sto stronzo quello che ha la faccia così in basso che gli serve una scarpa per il mento. Stavolta il potere magico faceva abbastanza cagare. Insomma l'anno prima ci avevano fatto cambiare colore nella materia ci sentivamo degli alchimisti potenti e ora avevamo la solita cazzata che c'è in tutti i braccialetti le collane e qualsiasi cagata ovvero si illuminano al buio. Che gioia! Il terzo ad uscire esce nel 2003 ed è I magicanti e i tre elementi. Allora possiamo notare una certa mescolanza di Harry Potter e Pokémon in tutto questo. Che cosa? Sì perché abbiamo la principale base di Pokémon acqua, erba e fuoco che si sconfiggono per di loro in questo caso legno ma potete capire che legno non ha molto senso perché ok l'erba assorbe l'acqua in Pokémon ma il legno galleggia sull'acqua e questa è la scusa usata dei magicanti. L'ho sempre considerata così anche per i Pokémon quindi vedete l'erba l'erba galleggia l'erba assorbe l'acqua l'erba galleggia sull'acqua e anche quello è vero sì ma il fatto che il legno gallegge non significa che sconfigge l'acqua beh sì non annega scusami per me è uno che non muore annegato è un buco salvo aiutatemi per l'altra metà parliamo di Harry Potter perché abbiamo una scuola di magia dove partecipano solamente dei magicanti cioè dei praticanti di magia ma noi seguiamo l'avventura di qualcuno che non è un mago e che si ritrova all'interno di questa scuola quasi per sbaglio Gemma è un bambino romp***e che mi stava su un cazzo che tu non hai idea chi sono? lui Benny 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 lui 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 sì 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 lui e chi? e vabbè abbiamo capito c'è una scena del cartone in cui Gemma finisce per restare impantanata nel fango perché è blu? perché è blu? perché è blu? non mi è piaciuto questa scuola quindi è blu quindi probabilmente quelli che hanno deciso di dipingerla non si sono informati sul perché avesse della m***a sotto i piedi e quindi anziché farla di un colore fangoso che non deve essere per forza il marrone ma poteva tranquillamente essere una qualsiasi tonalità di beige hanno deciso di farla blu come se fosse acqua appiccicosa o bob di mostri contro alieni questi i magicanti non hanno nessuna bacchetta magica ma hanno questo rombo per fare le magie le loro magie consistono nel creare legno acqua o fuoco sì legno acqua e fuoco suona talmente stupida come cosa che non riesco a dirla legno ah comunque nel cartone sfregando questo rombo quadrato sì è un quadrato effettivamente non con le unghie ok scusa perché si rovinavano come la schifo si otteneva l'immagine del legno non la si vede sì più o meno un po' di meno poco pochino sì insomma fanno sempre un po' schifo i poteri però vabbè la trama stavolta iniziava ad essere un po' più interessante perché non abbiamo un cattivo che cerca di conquistare il mondo altro ho appena detto il contrario per errore non avevamo un cattivo che cercava di conquistare il mondo altro del genere ma avevamo una buona che faceva la stronza praticamente maga felizza la preside della scuola di magia buona di magia bianca ha deciso di convincere gli alunni dell'altra scuola ad entrare nella sua sì non si parla di equilibrio fa bene e male qui tutti devono essere assolutamente buoni per forza e quindi i suoi alunni in realtà di loro spontanea volontà ma questa è un'altra storia decidono di convincere gli alunni dell'altra scuola ad entrare nella scuola di magia bianca e lasciare la magia nera ovviamente il preside della magia nera si incazza perché porca puttana mi state portando via il lavoro beh il resto del cartone si basa sul trattare questo poveretto che è stato depredato come se fosse il cattivo ah e come si diventa maghi buoni pettinandosi i capelli bevendo dal becchiere da cui ho bevuto un altro comunque metodi stupidi che ovviamente servivano a aiutare i bambini a imparare che cosa è buono che cosa è cattivo i cattivi non si pettinano voi vi dovete pettinare poi mia madre da piccolo mi rasava a zero e io mi chiedevo come cazzo facesse diventare un maghetto buono e adesso la cosa non è migliorata ok per la primissima volta nella storia di questi giocattoli con i magicanti si pensava di far fare delle sfide fra di loro a chi comprava i giocattoli ai vari bambini che eseguivano la serie tu ci hai mai giocato contro qualcuno per sfidarlo? no alla fine a nessuno è mai piaciuto fare sta cosa dell'acqua legno e fuoco anche perché faceva abbastanza schifo a questo punto giocavamo a sasso carte forbici e facevamo prima anche perché ci volevano 60 anni sfregando prima che finalmente uno di quelli si rivelasse ecco questa è la parola che cercavo l'anno successivo avviene la magia e si passa da cartoni abbastanza mediocre e carini alle opere d'arte siamo tutti d'accordo no? sui roteò per la primissima volta nei roteò abbiamo una vera trama molto sensata nei limiti della kinder e ferrero e che aveva davvero cercato di cambiare le cose tanto per iniziare abbiamo un cartone animato animato molto meglio rispetto a quelli precedenti motivo? è cambiata la regia già una nuova regia i precedenti due registi che avevano fatto i primi tre se ne sono andati non so sinceramente per quale motivo ma per fortuna se ne sono andati perché il nuovo regista è fantastico è piaciuto assolutamente a tutti e sarebbe rimasto ancora per qualche serie almeno le più belle secondo tutti si inizia con i roteò la colonna sonora è presa in modo molto più che palese dalla terza stagione delle Winx Winx Enchantix e dunque la storia ci viene raccontata da Socrass il film inizia con questo lungo discorso di Socrass sulla ciclicità della vita quindi già un discorso abbastanza profondo rispetto a quelle precedenti dove ci pettinavamo i capelli per diventare dei maghi buoni ok e ci viene spiegato che questo Socrass aveva questo gruppo di allievi che facevano i ballerini portavano nel mondo l'allegria con la loro arte però questo gruppo di ballerini si è diviso le femmine hanno iniziato a seguire un loro percorso andare da una certa parte e i maschi da un'altra parte e noi inizieremo la nostra storia seguendo i maschi che decidono di esibirsi in questa grande importante città dove però il cattivo chiamato Antagos grandissima fantasia Oscar ha il miglior nome sul serio comunque l'antagonista chiamato Antagos è questo ex ballerino di danza classica che è caduto in disgrazia gli si è rotta una gamba ha fatto la figura del pirla viene preso per il culo da anni e anni e non è più in grado di ballare poiché la sua gamba non è più tornata quella di una volta lui particolarmente geloso dell'abilità di questi ragazzini quando vede che tutti acclamano questi ragazzini decide di andare da una strega e cercare di trovare un modo per imbrogliare questi ragazzini di nuovo sto dicendo troppe volte ragazzini sembra un pedofilo spero per te di no so cosa si trova ad essere pedofili tagli vero no ok spero che lo veda tua madre no e dov'è che eravamo la rotea sì grazie ciclicità nella vita questo antagosse che cercherà in tutti i modi di fare in modo che la loro danza diventi più brutta oppure che i gusti delle persone cambino la trama però a questo punto inizia a infittirsi sempre di più c'è un altro regno dove sono state rinchiuse le femmine seguiamo le vicende anche di Portabò che è uno sfigato incredibile che riesce a perdere il naso nel corso della storia e davvero questa trama diventa molto più intricata rispetto a quella precedente molto più avvincente e beh è piaciuta sempre a tutti i giocattoli stavolta si basavano su dei magneti nel corso del cartone animato veniva fatto vedere il modo in cui quando un maschio e una femmina ballano assieme si crea una sorta di energia che altrimenti non esisterebbe e quindi si dava per scontato che avvicinando fra di loro i due magneti che stavano ai piedi di ogni personaggio uno dei due si mettesse a girare quello che succedeva in realtà era un casino inoltre questo grazie alla nuova regia è il primo dove i due personaggi che sembrano persone normali non hanno nessun potere magico o nient'altro del genere non sono i protagonisti si è un film collettivo loro appaiono tipo dopo metà del film lì è data e imparano a ballare nel corso del film ma non sono i protagonisti per nulla non lo so più cioè sono importanti per la trama ma sono più degli aiutanti che neanche dei protagonisti i protagonisti sono più iroteo e altra cosa sconvolgente generalmente i protagonisti di questi cartoni di quinto ordine sono biondi con gli occhi azzurri bianchi stavolta quello che è in un certo senso il leader del gruppo è di colore è di colore che è stato? no a questo punto ci troviamo nel 2004 ero all'elementare ero piccolo neanche tanto piccolo perché ero all'elementare anche con i magicanti anche io ero all'elementare nel 2004 non ero all'elementare nel 2004 no avevo 5 anni se non si va a 6 anni si va all'elementare c'ero quasi ci troviamo per la primissima volta negli anni 2000 più precisamente nel 2005 ah cioè l'ambiente l'anno in cui è stato fatto il cartone corrisponde all'anno in cui è ambientato ah mi ricordo che c'era la moto del nonno che era il nonno moto sì ma questo è uno spoiler Dedo e Fofì sto leggendo i nomi non pensate che li sappia a memoria perché non me li ricordo più ho una memoria di p***a la storia parla di Fofì che decide di fare un regalo di compleanno se non sbaglio a Dedo e quindi entra in questo vicolo segreto all'interno del quale si trova un negozio magico all'interno del quale trova questa pista delle moto che costa 3 euro e che decide di regalare al fratello una sola regola una sola regola riguardo tutto questo non devi mai girare le chiavette oltre la linea rossa e quando in un film ti dicono una frase dal genere sai già quello che succederà quando Dedo non ascoltando sua sorella decide di girare le chiavette che fanno andare le moto fin oltre la linea rossa i due si teletrasportano nella terra di non dove eh? sì nella terra di non dove che somiglia tanto alla terra di altrove dove è ambientato io nel cane Fifone sento dei cigoli terrificanti è quello che fa la prima sveglia non ci si può muovere se tu che sei pesante dove hai chiesto? ok arrivano nella terra di non dove una terra dove le moto sono non dove non dove le moto sono gli unici esseri viventi ad essersi evoluti gli unici esseri viventi rettificherei effettivamente sì non vivono le moto tante persone hanno accusato questo cartone animato di aver preso l'idea da Cars effettivamente sotto l'ondata di Cars sarebbe geniale saltar fuori con questa idea disinformati ignoranti Cars viene dopo l'hai azzeccata Cars esce nel 2006 questo cartone esce nel 2005 quindi a meno che per qualche strano motivo la The Animation Band avesse tra le mani i progetti della Pixar cosa che trovo alquanto improbabile effettivamente non possono aver copiato Cars la trama infatti è molto diversa ed è come quella di Spirit abbiamo un canyon che deve essere saltato ma nessuno ha il coraggio di saltarlo e Spirit era già uscito ah sì quello sì ok vabbè però Spirit se lo scopo del film non è saltare il canyon non rovinare il mio video lascia che queste cose me le dicano nei commenti tutti quelli che vengono a rompere le scatole per ogni piccolo errore che faccio cosa che di solito mi sono già reso conto di aver sbagliato mentre montavo il video ma non ho corretto perché altrimenti significava farsi due a**a così e ho detto il bip io ci metterò sopra anche un altro bip i protagonisti erano delle moto allora qui possiamo dire che sì la regia è migliorata parecchio i cartoni sono molto più carini molto più movimentati c'è una morale un po' meno scontata anche se all'incirca sempre una l'amicizia bella e cose del genere abbiamo di nuovo i magneti solo che stavolta rendendosi conto del fatto che cercare di far girare su loro stessi dei personaggi era un po' inutile e difficile stavolta dovrebbero tramite dei magneti nascosti stavolta non sono visibili perché non sono le ruote ci avevo pensato anche io da piccolo ma non sono le ruote comunque tramite dei magneti nascosti loro erano in grado di muovere la moto davanti a loro una cosa assolutamente inutile dal punto di vista pratico ma che nel cartone animato succedeva davvero e beh a quanto pare se due moto si mettono in fila la moto davanti va più veloce quando a livello fisico è il contrario a quella dietro no non è vero è testato che se tu con la moto stai dietro e segui la scena di quello davanti quello davanti va più veloce? no quello dietro va più veloce vedi avrei ragione ancora tu come prima come sempre qui avviene un'altra differenza già nei magicanti era capitato che oltre ai personaggi decenti ci fosse sto di uccellino canarino quello che è che compariva ogni quattro scene faceva le stesse gag di Tom Egerio di Gatto Silvestro e non faceva ridere Scrat va bene Scrat fa ridere Scrat faceva ridere faceva ridere faceva ridere Scrat faceva ridere un tempo con il roteo aveva un portabocchi effettivamente era un personaggio non era rompicoglioni tanto quanto l'uccellino dei magicanti così ci misero una trombetta la cui unica utilità all'interno della serie è quella di creare questo pipottino di una plastica diversa rispetto a quella degli altri infatti di solito la plastica è abbastanza una plasticotta dura mentre qua abbiamo una plastica morbida e una gomma praticamente per favore chi è che ha avuto l'idea di metterci quella trombetta? all'incirca la trama di questi animotosi è molto più classica purtroppo rispetto a quella di Rodrión il cattivo è semplicemente antipatico però merita di morire logicamente è questo uno stronzo esatto lui ha litigato con la moto protagonista e basta la trama è questa e appunto sarà cercare di risolvere questa faida che va avanti inutilmente da un sacco di tempo ignorando il fatto che ci siano un sacco di altre moto che compaiono all'interno del cartone che non servono assolutamente a nulla e che si rendono probabilmente conto di essere dei personaggi che esistono per qualche seconda e poi basta un po' come se noi vivessimo sapendo che quando avremo 26 anni passeremo dietro all'inquadratura di un certo film dopodiché potremo morire essere inutili è bellissimo io non ho mai capito perché dei protagonisti dei Lampa Clima lei fosse fatta di gomma perché farla di gomma perché gli altri sono di plastica dura perché lei è di gomma è bruttissimo anche perché la gomma si rovina prima e finché era la trombetta di essere di gomma mi andava bene ma la trombetta ha due colori lei che ne ha 74 di colori addosso 4 c'ero quasi la matematica l'hai già detto non è più forte vabbè la trama dei Lampa Clima come potrebbe vagamente suggerire il titolo riguarda un'isola già praticamente questi bambini per un motivo a noi sconosciuto viaggiano con la nonna che è Jessica Fletcher che cerca di risolvere un mistero inerente a un'isola misteriosa qual è questa isola misteriosa di cui si parla? un'isola dove piove c'è il sole e nevica al tempo stesso potrei fare un elenco delle cose che non funzionano ma effettivamente sarebbe una cosa abbastanza magica giustificherebbe il fatto di volerla cercare ehi voglio vedere un'isola dove piove nevica e c'è il sole allo stesso tempo così la mia vita sarà completa questa isola che loro credono essere disabitata in realtà è abitata questo credo che sia il primissimo film in cui i personaggi rischiano effettivamente di morire e beh la trama rotta intorno a questi lampaclima una popolazione che grazie ai climotti cioè dei proiettori che hanno attaccati alla fronte sono in grado di creare il sole creare il sole a lui piacevano tanto ma io sto rovinando tutto posso capire quelli che creano le nuvolette da cui poi scende la neve o le nuvolette da cui poi piove ma quelli che creano il sole che creavano il sole non il fuoco il sole il sole ognuno di loro creava un sole diverso ogni volta che usava il climotto perché mi avete fatto questo ogni clan è composto da tre lettere w e t wet gli umidi che erano coloro in grado di creare la pioggia i sun mi si sta scaricando il telefono i sun ovvero coloro che creano il sole e gli ice cioè coloro che creano la neve il cattivo ovviamente ha come piano la conquista del pianeta perché vuole conquistare il pianeta perché sì ok come e questo è un piano geniale effettivamente è davvero un piano geniale allora lui per poter conquistare il pianeta ha bisogno dell'energia di questi climotti quindi l'energia del sole l'energia della pioggia l'energia del ghiaccio che effettivamente sono delle energie delle forze che controllano il clima solo che ogni volta che uno di loro uno di questi lampaclima crea la luce perché non credo che sia il sole vabbè ogni volta che crea un qualche clima usa un po' di energia ora lui ha fatto finta di essere un dio ogni potente che pretendeva dalle varie tribù una certa quantità di energia per ricevere in cambio il cibo in altre parole è cracco che ha deciso di usare per bene le sue abilità ok è un genio in altre parole gli altri non possono vivere senza dare energia a lui e lui grazie a questa energia può diventare onnipotente e conquistare il mondo è talmente geniale questo piano che io lo lascerei fare solo per la stima che ho verso di lui tra l'altro quale cibo il minestrano cioè un minestrone che non sa di merda stranamente ma che sa di tutto quello che vuoi quello che ti immagini quello che ti piace e indovina chi sostituisce la trombetta del no adesso non dire niente contro il granchio non dire niente contro il granchio non dire niente puoi dire quello che vuoi contro il pappagallo ma niente contro il granchio di che cacchio di pappagallo stai parlando in ogni caso questo granchio chiamato clacla praticamente come se non esistesse poteva tranquillamente non esserci e non sarebbe cambiato nulla ma noi volevamo usare gli scarti di gomma fatti per fare l'altra cretina e quindi abbiamo tanta gomma in clacla questi lampaclima avevano sulla fronte questo chiamiamolo gioiello che era in realtà parte di un proiettore una cosa bellissima tu lo infilavi nel climotto come succedeva nel cartone e questi proiettavano e proiettavano l'immagine del loro clima il sole la pioggia e da questo punto in poi si passa allo schifo gli scatenini non so che cacchio sia ad aver avuto questa bruttissima idea ma una casa d'animazione che dal 96 al 2006 ha sempre fatto animazione a mano decide di fare l'animazione al computer ovviamente fanno assolutamente schifo il lato positivo è che stavolta non abbiamo nessun animaletto a caso fatto di gomma positivo stavolta abbiamo Troy di High School Musical vestito per l'occasione da Isis che vive nel deserto e noi restiamo convinti di essere in un'atmosfera favolistica più o meno per metà film già perché all'inizio a parte la presenza di skateboard all'interno del cartone non abbiamo il minimo indizio che ci faccia pensare che siamo i giorni nostri o meglio 10 anni fa già quindi ci troviamo in questo deserto dove qualche idiota ha avuto la fantastica idea di dire ehi trasformiamolo tutto quanto in una giungla senza pensare al fatto che l'ecosistema così va a farsi benedire ma comunque abbiamo questi maghi che con lo skateboard portano la terra la roccia e la terra fertile insomma quella roba la tavola da surf che porta l'acqua e a portare l'erba è il bovù il? il bovù esiste? non ne ho la più palida idea che cos'è? cioè li ho visti usare una volta sulla neve quindi che cosa c'entrano con l'erba? che cos'è un bovù allora? cos'è questa incredibile magica magia? sai cosa ci stava? il bob che porta la neve si ma si aveva qualcuno che portasse l'erba e visto che a bed non c'era di nuovo si gioca sui magneti già siamo bastati dai proiettori la cosa più figa che qualcuno potesse immaginare ai magneti cioè loro tramite i magneti si attaccano alle tavole possono essere scambiate fra loro e ogni tavola effettivamente funziona cioè questa gira lo skateboard ha le ruote e la tavola da surf non galleggia ci hai provato va bene i cattivi sono i tipici ragazzacci quanta gente avete visto che è un ragazzaccio e che quindi si fa dei tatuaggi sugli zigomi i dentoni che neanche i Bugs Bunny e i capelli che neanche mia nonna è pieno è pieno è ovunque e ve l'assicuro nel 2006 non era diversa questa cosa ok era ancora lì perché di conseguenza i cattivi vivono in città e vengono chiamati nel deserto dal cattivo che ha questa sorta di pietra filosofale in grado di trasformare qualsiasi cosa in oro ma che deve avere accesso al tempio che protegge la dea della natura che è una donna normalissima solo che ha la gonna che si trasforma in sabbia non è molto utile come cosa soprattutto se sei madre natura ok comunque abbiamo madre natura che cerca di proteggere questo tempio usando tre ragazzini che non si sa di chi siano figli o che cosa mangino nella loro vita e che vivono nel deserto girando per il deserto per trasformarlo in non deserto e quindi lui decide di ingaggiare questi altri tre ragazzini che hanno l'effetto esattamente inverso ed eliminano l'acqua eliminano la terra ed eliminano l'erba si sono proprio ragazzazzi e beh non si capisce che cosa sia questo piano cioè lui vuole avere accesso al tempio per poter trasformare qualsiasi cosa in oro non si sa perché c'è questa grande necessità e chiama dei ragazzini dalla città per andare in giro ai skateboard per il deserto si capisce che non c'è più il vecchio regista no? io ci piego cinque secondi dovrei un po' a raccontare la trama e che schifo dopo gli scatenini restiamo sui mezzi di trasporto e mi sa che ci resteremo quasi per sempre perché sì sì i successivi sono gli smile and go nessuno ha mai capito perché avessero deciso di dare un nome del genere a dei cartoni italiani già perché se almeno si chiamassero apple potremmo capire tutti quanti che stiamo parlando di mele o di computer ma chiamandosi smile and go quanti bambini di sei anni hanno la più pallida idea di che cosa voglio dire smile and go i smile and go che cosa sono? sono dei pokemon di nuovo praticamente i protagonisti di questa avventura sono questi ragazzini me li ricordavo che vivono in un mondo che è in un certo senso futuristico e in un certo senso favolistico sapete hanno cose tipo le cuffie alle orecchie e vestiti che si usano soltanto da oggi e cantano canzoni pop che fanno davvero schifo ma al tempo stesso si parla di magia e c'è un'ambientazione tipo disneyana non è molto chiaro dove cacchio siamo nel tempo e nella storia però siamo da qualche parte di sicuro nello spazio e questo luogo nello spazio è vicino al bracere bifuoco che cos'è il bracere bifuoco ricordate quelli che hanno creato il sole i lampachlima ecco lo stesso concetto qui abbiamo una coppetta di gelato con dentro delle fiamme che hanno creato il caldo noi il cattivo è mai questa no ok abbiamo sta coppetta con dentro il fuoco e questa coppetta sta per spegnersi questo succede ogni mille anni e ogni mille anni quindi deve essere riaccesa per fare in modo che il caldo resti non chiedetemi il senso di questa cosa ok e beh quindi il mondo inizia a congelarsi diventare estremamente freddo siamo a luglio e cade la neve oh mio dio che disastro e quindi questi ragazzini decidono di cavalcare questa sorta di pokemon per arrivare più velocemente fino a abbracciare il bifuoco chissà perché questi cosetti che loro cavalcano sono diventati i protagonisti a tal punto da ricevere il nome già non parlano non hanno un ruolo se non ci fossero sarebbe praticamente identica la storia potevano metterci delle biciclette e sarebbe funzionato lo stesso però loro sono i protagonisti ok quegli animaretti che appaiono da metafilm e che non servono assolutamente a nulla ci sarà qualche scena abbastanza carina caruccia ma no 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 potevano farne a meno e il lato positivo che stavolta loro sono in grado di essere felici o tristi che colpo di scena no effettivamente la cosa sarebbe anche carina perché per quanto questo potere sia molto piccolo e limitato questi cosetti avevano una quantità di poteri che i magotte si rimmaginavano sì loro cambiavano colore ma questi possono essere felici o tristi hanno delle ruote che funzionano come le famose macchinine che tirano indietro e partono e vanno avanti in più i personaggi ovviamente si staccano dal loro smile and go e possono essere scambiati fra di loro con gli altri smile and go inoltre i vari smile and go si possono magicamente non tanto magicamente a quanto pare attaccare fra di loro cosa queste sono tutte quante cose che fanno nel corso del cartone come se non bastasse hanno anche i cutie mark già ognuno di loro ha un simboletto sul fianco che voi non potete vedere ma se ne possedete uno lo vedete di sicuro queste sorte di cutie mark come quelli di my little pony che identificano la personalità degli smile and go e la cosa più interessante è che i cutie mark come sono intesi oggi ancora non esistevano quindi questi cartoni non solo hanno anticipato Cars hanno anticipato anche my little pony stavolta volevano essere originali e quindi hanno pensato sentite abbiamo già fatto un sacco di oggetti rompiscatole un sacco di animali rompiscatole che cosa ci mancano i vegetali rompiscatole abbiamo quindi una zucca già una zucca di gomma di gomma che si chiama puffete non ha assolutamente nessun potere magico se non quello di riuscire a rompere le scatole più degli altri no comunque fra tutti i personaggi rompiscatole questo è il meno rompiscatole è un lato molto positivo inoltre credo che sia l'unico rompiscatole ad essere una femmina già e stavolta hanno sbagliato a colorare il cattivo vi manderò qualche scena dal cartone per farvi vedere come i vestiti di questo personaggio non c'entrino assolutamente nulla con quelli di quello originale hanno proprio scambiato i colori fate schifo arrivate un lavoro uno solo la trama come vi ho detto si basa sul bracere bifuoco che sta per essere spento e quindi sta per arrivare il gelo in tutto il mondo e ve l'assicuro maletica qui ha come piano quello di lasciare che il mondo venga congelato perché in questo modo il suo esercito potrà marciare sullo ghiaccio e invadere il mondo classico troppo classico del tipo non li hanno inventati gli aerei tu devi congelare il mondo per riuscire ad invaderlo vuoi fare la fine di Napoleone sul serio cioè è questo il tuo fantastico piano morire di freddo per poter dominare il mondo dei mammut per non parlare del gruppo di cattivi perché ormai abbiamo capito che è raro che il cattivo sia uno solo spesso capita un gruppo di buoni e un gruppo di cattivi il gruppo di cattivi stavolta è il gruppo dei buoni che a un certo punto inizia a fare lo stronzo e a diventare cattivo perché da che grandi cose sono mosse nessuna assolutamente nessuna ma dopo gli smile and go abbiamo il declino il declino quello brutto tanto brutto sì i pallastrike sull'isola di pasqua erano stramelli perlomeno i giocattoli falla a te una tecnologia così allora i giocattoli avevano questo potere magico dell'avere un tasto che non si cliccava mai ma non si clicca ma va non si clicca sono giochi della kinder e ferrero metà delle volte non funzionavano l'altra metà funzionavano ma il cartone faceva cagare con questa complicatissima tecnologia per fare in modo che questo piccolo cerchietto che questo piccolo cerchietto questo piccolo cerchietto infilandosi qua dentro venisse sfrato via ovviamente il gioco faceva schifo non è piaciuto a nessuno e basta a me piaceva questo cartone ha avuto la terribile sfiga nei nomi dei personaggi perchè per la primissima volta i personaggi non si chiamano puffetti piffete paffete ma si chiamano con nomi reali no comunque questo è un problema serio perchè questo cartone ha avuto la sfiga di dare a questo personaggio il nome più famoso d'Italia Yara stavi per fare una cosa brutta per far ridere e ci sei rimasto male ammettilo davvero si si chiamava Yara lei verrà ricordata per questo non per la sua personalità ma per il suo nome quindi facciamo finta che lei non esista e manteniamo loro due non ho mai capito il motivo per cui essendo loro due fratelli uno dovesse essere non lo so Gimli e l'altro Legolas cioè perchè l'isola di Pasqua come sappiamo è molto famosa per una sola cosa un particolare che è tipico dell'isola di Pasqua il dodgeball si cioè il tirarsi una palla in faccia e vincere ah è disabitata no non è disabitata è abitata dagli italiani cosa è abitata dagli italiani però gli italiani non sono persone sono questi cosi che dovrebbero probabilmente ricordare i testoni di pietra che neanche ricordo come si chiamano però i loro nomi erano tipo Moai Maoi Maori questo credo che sia il cartone meno sensato in assoluto perchè praticamente questi bambini non ho mai capito come vengono teletrasportati sull'isola di Pasqua hanno a che fare con questi tizi che stanno per affrontare in una grandissima partita il cattivo perchè è bravo a palla strike perchè è così che la chiamano perchè non usano una palla ma un disco e quindi si chiama palla strike cioè cambiamo prigioniere in strike anziché cambiare palla in disco e beh lui è il cattivo perchè vuole vincere questa partita di palla strike che non lo so dominerà il mondo vincendo questa partita di palla strike e quindi deve essere fermato ovviamente l'animale di gomma di quest'anno non è di gomma hanno smesso di fargli di gomma se saranno resi conto che provocava un tumore nel cervello ai bambini non lo so qualcosa del genere una rana una rana che è meno memorabile di me quindi sul serio non non se la caga nessuno tu sai come si chiamava? non me la ricordavo neanche beh si chiama? grac 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 e il granchio clacla e il grac e la gallina può e il spulcino pio e si questa è la trama si nota il cambio di regia vero? il cartone successivo a quello della palla strike pochi avrebbero mai pensato che sarebbe stato peggiore ma è peggiore ma tanto 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 peggiore allora non ricordo niente della trama avrei dovuto ricontrollarlo riguardarlo o altro del genere prima di parlare nel video però facciamo finta di niente basta non ricordo assolutamente nulla della trama ricordo però che all'incirca la trama è siamo a gardaland e capita un fulmine su una giostra e i personaggi di marmo di quello che sono fatti di plastica della giostra prendono vita e inizia una guerra fra due clan una cosa del genere all'incirca i cattivi erano tutte quante cose dal tipo oh mio dio la cacciatrice di ipopotami contro la ragazza cresciuta nella giungla si si parla di nuovo di automobili ma stavolta automobili vere e la loro unica abilità è essere automobili andare avanti indietro si non vanno se non ci metti il personaggino sopra ma questo è abbastanza irrilevante direi uno dei particolari irrilevanti è chi è il personaggio di gomba che rompe le scatole la zucca e l'hanno sentito per strada io mi immagino un'esplosione rimanata nel tuo bagno in questo momento perché ha anche tirato l'acqua quindi non vorrei dire magari c'è stato lo sforzo che l'ha aiutato c'è mia nonna in bagno non c'era bisogna di dirlo non c'erano arrivate mi sa c'è mia nonna in bagno quella del video della teoria di Einstein delle galline delle rane e delle rane delle ganelle e della formica farfaiosa ecco quella e ne mancano ancora due però non me le ricordo più la zucca la stessa zucca degli smile and go che era la meno irritante fra i personaggi di gomma ritorna ritorna vestita leggermente in modo diverso ma ritorna non si sa perché è l'unico personaggio della storia di questi cartoni ad essere mai ritornato e secondo voi ritorna e resta il personaggio meno irritante in assoluto? me l'assicuro preferirei avere ronaldo che mi si appiccica le palle ronaldo di steven universe non gente del calcio se c'è uno che si chiama ronaldo taglia taglia va bene ok va bene c'è qualcuno che si chiama ronaldo va bene di nome sì c'è un nome che non c'è nel calcio? me lo chiedi a me puffete non c'è non c'è me lo chiedi a sicuro sì in questo cartone in realtà abbiamo anche altri personaggi esterni abbiamo anche un gatto e un neonato perché sì? abbiamo comunque un gatto e un neonato e poi c'è puffete che stavolta è dalla parte dei cattivi diventando dieci volte più irritante di prima perché se prima era se stessa adesso cerca di imitare la se stessa del passato quindi immaginate un personaggio che per poco non era irritante che cerca di imitare un personaggio che per poco non è irritante è irritante due volte è fantastico come è riuscito a rovinare tutto questo è stato bellissimo comunque c'è un motivo se questa è l'ultima non credo che Secchia le merendine e Kindle abbiano iniziato a far cagare ma è più probabile che abbiano iniziato a guadagnare di meno forse perché i bambini sono cresciuti e hanno smesso di prenderli non credo perché lui li ha presi ancora tutti è più probabile che sia perché facevano abbastanza schifo i cartoon mi spiace ma le cose stanno così avresti dovuto cercare di prendere un po' di esempio da i roteo tu regista che hai fatto questi già ti ricordi sono t'ho letto cinque secondi fa è passato troppo tempo lo sai che sono un pesce rosso intanto ditemi se lo volete ancora nei video così so se licenziarlo spero di no e se lo volete di nuovo sappiate che può parlare anche di Steven in un universo di qualsiasi altra cosa può disturbare qualsiasi mio video tu mi senti ogni tanto a fare video e allora penso che avrei sentito il tuo zucca di prima quello di sicuro l'avrei sentito lui dorme lì a due metri da qui due metri e mezzo l'hai misurato? no senza contare la superficie del letto dai salute faccia quello che vuoi tranquillo lo taglio io a Grazie a tutti.